e buongiorno 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 si fa per dire appoggiamo il telefonino correttamente e facciamo il video con gli amici perché perché ieri sera mi dovete scusare ma non me la sentivo di fare il video prima volta dopo tanti anni è successo anche a istanbul malia perché non potevo a livello temporale perché poi dovevamo ritornare a ritornare vicino all'albergo e ci avevamo messo due ore quindi l'avevo fatto il giorno dopo le sensazioni sono diverse ovviamente rispetto a istanbul perché a istanbul ero ero contento comunque era già un successo essere arrivati fin lì ieri invece quest'inter poteva tranquillamente portarla a casa solo che è andata come è andata dobbiamo accettare le sconfitte non è facile perché è un boccone veramente molto 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 amaro però siamo abituati troppo bene ultimamente i ragazzi ci stanno ci hanno abituato troppo bene quindi la parola sconfitta era da tanto tempo che non la pronunciavamo soprattutto nelle competizioni europee non ci si ricordava più cosa cosa volesse dire uscire da una competizione europea e come ci si sente forse soprattutto il giorno dopo perché oggi onestamente sono ancora più deluso di ieri deluso no era ammaricato deluso no perché non ho niente da rimproverare ragazzi che ci hanno messo anima il cuore solo che chiaramente l'abbiamo buttata via l'andata ecco parliamoci chiaro una partita che dovevamo chiudere l'andata che partita dell'andata quella dove tantissime occasioni non le abbiamo sapute finalizzare e poi l'abbiamo pagato a ieri questo discorso qua l'abbiamo pagato ieri né più né meno anche ieri abbiamo avuto tantissime occasioni per chiudere il match e dargli un'ammazzata definitiva occasioni le hanno avute anche loro per l'amor di dio perché è stata comunque una partita dove ci sono state occasioni per tutte e due le squadre però noi ieri l'abbiamo ributtata via un'altra volta perché ne puoi sbagliare una ne puoi sbagliare due ma non puoi sbagliare tutte quelle occasioni anche perché soprattutto in Europa si vince con i dettagli con le piccole cose anche con l'episodio a noi gli episodi ne abbiamo avuti parecchi no e purtroppo non siamo stati capaci di sfruttarne a sufficienza perché abbiamo fatto solo un gol e ne potevamo fare due o tre anche anche l'atletico ma per l'amor di dio ma soprattutto noi e in momenti focali dell'incontro la cosa che fa più male è vedere battere così i rigori ecco ve lo dico non assolutamente purtroppo la cosa la cosa che mi ha rammaricato di più è vedere sbagliare il rigore tirato male da Lautaro vedere che Sanchez tira male il rigore insomma mi ha fatto mi ha fatto veramente intristire nel senso che sono sono due campioni che hanno doti tecniche molto 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 importanti però qua vi fa capire che a livello comunque di mentalità l'aspetto psicologico è quello che ieri comunque ha influito più di ogni altra cosa e dispiace perché ha comunque un inter superiore all'atletico madrid per quanto riguarda le qualità tecniche per quanto riguarda la rosa che ne dicano perché poi magari poi stasera facciamo un altro video in questi giorni ne farò parecchi di video anche perché già mi stanno girando le scatole perché prendiamoci chiaro penso che sia assurdo da parte di interisti che hanno canali buttare merda e aspettare l'occasione giusta per buttare merda anche perché è occasione giusta noi non veramente quest'anno è la terza sconfitta la terza la prima in champions dopo veramente mesi e mesi e mesi e mesi quindi occasioni non la nostra squadra non sta dando tante né né ai tifosi di altre squadre che io non considero neanche anche perché parliamoci chiaro gli sfottò che stiamo ricevendo in queste ore mi fanno veramente piacere perché perché io capisco la frustrazione di sta gente che insomma non ci vedeva perdere non ci vede perdere mai le loro squadre sono ridicole non vincono niente poi non parliamo non parliamo dei dei cugini di campagna insomma loro un interista ultimi anni hanno veramente poco da dirgli no perché i derby sono lì da vedere il 2023 è lì da vedere la distanza in classifica è lì da vedere e le loro prestazioni sono lì da vedere i gobbi per me non esistono e gli altri tifosi non sa neanche che squadre tifino perché non mi interessa ok già per me esiste solo l'inter e immaginate un attimo però niente a me fa male leggere titoli perché io non apro quei video dove si comparano rose si si coglie l'occasione per rompere le scatole per le solite questioni societarie tutto quanto insomma la partita di ieri dare dare la colpa al presidente per la partita di ieri è ignobile è ignobile se fatto su sui social è veramente ignobile se si è interisti e si dice di esserlo quindi questa è una situazione che veramente mi ha stancato mi ha stancato però cosa posso fare cioè non è che posso fare un video al giorno perché perché comunque dai visibilità a persone che sono lì da vedere sono lì da vedere soprattutto uno è lì da vedere mi da vedere attacca zanghi in continuazione e parla e parla di pif sempre praticamente sempre anche prima di partite come importanti come era quella di ieri quindi è veramente assurdo non cadete nel tranello di farvi intristire anche perché ragazzi cioè guardiamo quello che stiamo facendo e abbiamo il nostro obiettivo che è quello della seconda stella obiettivo che siamo vicini a raggiungere quindi non ci perdiamo d'animo assolutamente per una qualificazione non arrivata e per una sconfitta perché perché non che ci dobbiamo abituare per l'amor di dio insomma già il fatto che andare a ricordare l'ultima eliminazione in in champions league si parla a memoria di liverpool inter insomma non sono passati mesi sono passati anni quindi vuol dire che il lavoro fatto da tutti quanti all'inter è stato lavoro importante e quindi dobbiamo essere solo che contenti e soddisfatti di quello che i ragazzi stanno facendo e hanno fatto ok e della stagione grandissima che comunque i nostri ragazzi stanno facendo quindi stiamo vicini alla squadra perché perché la sconfitta di ieri io non penso che a porti straci chi straci o io non riesco a pronunciare quella parola ragazzi cioè chiedo l'aiuto a casa incredibile ogni volta che la menzione nel video non riesce o ma e lo conosco abbastanza bene l'italiano no no penso di avere una una dialettica abbastanza buona ok seppure elementare scontata però comunque penso che i risvolti psicologici questa questa partita non non gli porti perché comunque i ragazzi hanno una consapevolezza di essere vicino all'obiettivo e di essere una grandissima squadra ieri sotto il punto di di vista psicologico però c'è mancato quel quid in più e quel quid in più ti fa vincere le gare in in champions quindi sotto quel punto di vista era un esame io continuavo a dire l'ho anche intitolato notte prima degli esami era un esame importante che non abbiamo superato capita nella vita l'importante è analizzare gli aspetti negativi e migliorarli e trasformarli in positivi molto semplice io ragazzi vi saluto vi ricordo che di milano è simbolo regale il biscione dell'internazionale è io non rubo il campionato è in serie b non sono mai stato quindi non vi dico su col morale perché oggi ci sta a essere tristi ma ci sta anche considerare che tre volte all'anno quattro volte all'anno si può esserlo ok forza inter ragazzi e noi quest'anno qualcosa l'alziamo gli altri si accontentano delle nostre sconfitte ben poche quindi poverini che pena mi fanno ciao ragazzi forza inter